Musica Ciao a tutti ragazzi, questo è il quarto episodio di Minecraft di Other Planet Io sono Lethal Pablo e siamo qua Sono venuto qua soprattutto per controllare magari, ecco, l'altra volta, non so se vi ricordate Abbiamo piantato i cactus e stanno crescendo Meglio rientrare in... eh, sto vedendo qua anche le piantine che stanno crescendo Qua sta andando tutto bene Magari adesso andiamo a farci una dormitina perché sta arrivando la sera Aspettiamo che cala il sole Vediamo Appena cala Andiamo qua, così ci saltiamo la notte perché ho bisogno di... di... di andare insomma ad aggiustare la canna da zucchero Che magari gli aumenta un po' d'acqua Non so Se si muove questo sole a tramontare magari riusciamo anche a far prima Vorrei anche ringraziarvi tantissimo, veramente di cuore Un ringraziamento sia da parte mia che da parte di Bulle Perché nel giro di pochissimi giorni siamo veramente giunti a 500 visualizzazioni e per noi è un gran traguardo Vorrei ringraziare tutta la gente che in questo momento ci sta sponsorizzando e ci sta pubblicando Un ringraziamento ai miei amici sia di scuola ma anche a voi utenti che mi consigliano in privato Anche agli MKK che è un canale già famoso di suo e hanno accettato di sponsorizzarci E a tutti gli iscritti al canale e ai futuri iscritti Veramente un grazie di cuore perché siamo cresciuti... cioè stiamo crescendo in fretta E... cioè siamo rimasti sorpresi perché i progetti miei di Bulle erano di... Sì facciamo qualche video però ora che arriva qualche iscritto, qualche visualizzazione ci vorrà un po' Così era un progetto a lungo termine ma... Voi ragazzi ci state veramente velocizzando i tempi e ci avete veramente sorpresi Quindi veramente grazie di cuore Questo è il pezzo che l'altra volta ho tagliato Quando stavo scavando che ho tagliato per non annovervi E... sono entrato giusto due minuti fa per dare un'occhiata E ho scoperto che... innanzitutto ho aggiunto le torce perché non si vedeva veramente nulla La mia intenzione era andare di qua Però poi ho detto se vado di qua Mi avvicino verso la lava E ho detto voglio sporare verso il pianeta Così almeno faccio entrare un po' di sole Avvicinandomi sempre di più ho notato questa pietra strana Infatti non ho più scavato perché volevo mantenere con voi Cioè volevo farlo in diretta con voi Perché questa pietra strana come voi sapete Questa è la cobblestone e può essere solamente piazzata da utenti Diretta live Ecco qua già che troviamo un altro diamante Così proprio a caso ormai i diamanti li regalano in questa mappa Vediamo se riusciamo a trovare anche qualcos'altro di... Un altro diamante ma... Un altro diamante! Vabbè ci faremo la spada così riusciamo finalmente a completare quelle cacchie di sfide Ferro... E io però con questo ferro ho quasi paura a romperlo Un altro ferro ma sono finito in una miniera ragazzi Veramente c'è... Diamante, ferro c'è... Un altro diamante! Guarda cosa c'è qua Guarda cosa c'è qua 24 di vetro Una cesta che figata Che figata Una cesta Una cesta gratuita Oh Eh ragazzi Questo video C'è È un qualcosa di... Oh my god Oh my god Oh my god Sono finito in una vera e propria miniera Ragazzi non pensiate male Sto veramente scavando in diretta live Non mi sono organizzato Non ho fatto niente C'è Sono veramente sorpreso Sono a bocca aperta Cioè Almeno la redstone siamo riusciti a trovarla Così almeno faremo quei circuiti Facciamo... Perché una delle sfide consiste... Oh sti ragni Perché c'ho la sensazione che abbiamo dei ragni sotto i piedi ragazzi Allora Togliamo sto diamante E andiamo a depositarlo Faccio la spada in diamante E veniamo a uccidere tutti Iniziamo a levare un po' tutto Allora La lapis lazuli Bono Cosa serve? Ah Forse c'è la sfida di colorarla Di blu Voglio vedere Che forse la lapis lazuli serve a colorarla Boh di qua Ma non credo Ho già trovato fin troppo Vediamo se rompo tipo un blocco qua Uh Un dungeon Oddio no Ho fatto la cazzata Qua salgono i ragni Vediamo se sali 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 No no Sali 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 Dai 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 E io ti tappo Ha 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 Troveri Adesso resti lì Allora Eh sì Meglio che mi Muovo Vado a farmi Il piccone in diamante E però Prima io direi di provare Almeno un pezzo di armatura Perché quelli mi fanno veramente male Allora Opla 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 E opla E opla E opla Ok Allora Eh Non ho stick Adesso ce l'ho Spada in diamante Fatta Eh vabbè Questo si può anche buttare Ehm Oh mio dio No L'elba no No Non mi basta Cos'è Sbarra di ferro No niente ragazzi Niente Fail Epic fail Allora Questo lo mettiamo via Ah No 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 Che mettiamo via Guarda qua Vero 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 E opla 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 E opla Corazza di ferro Eh mamma Quanta pietra Corazza di ferro Direi Che basta Ah Basta pietra Quella Ah si Così completo anche la sfida Lo faccio direttamente Che devo fare la falce in diamante Solamente Che Ho sbagliato a tradurre Che sarebbe questa qua La zappa La zappa in diamante E che andiamo a sostituirla Con questa Questa adesso la raccoglio E le butto ste robe Tanto c'ho la lava Allora Ehm La canna da pesca la rifacciamo Questo si butta Questo si butta Ehm Il bastone si tiene Questo Si butta E questo si butta Via E vive il cestino personale Ehm Si Ehm Rifacciamo i cartelli Così almeno Strike The The Game Channel Cartello Cartello Presented By Lethal Pallo Ok A posto Così ci siamo liberati Anche dei cartelli Questi riuniamo Questi riuniamo Poi lo mettiamo qua Ehm Le torce Le teniamo Non si sa mai Il diamante lo mettiamo via Perché c'ho paura Per perderlo E direi di andare giù Nei meandri Fondi Giù 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 Sempre più giù Sempre più giù Sempre più giù Ok siamo arrivati Allora Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di sensato Stupida Musica Dai vieni su Dai Dai Sali Brutto storpio di un ragno Sto scendo io Scendo Ha Muori Muori E' fuori uno No Epic fail Epic fail Cos'è Oddio Perché sono avvelenato Ragazzi Che succede Eccoci qua Eh scusate Ovviamente La corrente deve saltare sempre nei momenti più giusti Ovviamente Vabbè Dicevo Abbiamo ucciso tutti i ragni Siamo tornati qua Eh che diamine Ma vi Ma vi pare la sfiga Guardate Mi sono appena craftato la corazza di ferro e me ne trovo una qua Ma che sfiga Ma non ci credo Vediamo se troviamo qualcosa di interessante No Allora Togliamo tutto qua Ah comunque Eh scusate che Guardate Proprio Sono sfigato in queste cose Ok Allora Nel frattempo Mentre ho recuperato qua Che dopo farò il montaggio Unirò i due video Mi sono anche nutrito Ok Allora Risaliamo a mettere tutto via Opla 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 Ce l'ho la canna da pesca? No L'ho buttata via Prima Ragazzi Bisogna pescare Ed è sera Ok Vabbè Ragazzi Che cosa vi devo dire Nel prossimo video Combinerò Più cose Qui abbiamo fatto il possibile Abbiamo trovato Il dungeon Quindi abbiamo già concluso Un po' di sfide Che cosa posso dirvi Vi ringrazio ancora Veramente tanto Per quello che ci avete C'è per le 500 visualizzazioni Per me E per bulle Sono veramente tante Un ringraziamento speciale Dall'etalpablo Iscrivetevi al canale No le va Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Commentate Suggerite delle mod a bulle Perché sennò Quello lì mi fa una capatanta Su Dimmi qualche mod Di qua Dimmi qualche mod di là E ogni volta Mi trovo spaisato Quindi Aiutateci Per favore Lì è cresciuta Il canale Ciao ragazzi